buongiorno da pasquale bove lunedì 27 giugno 2016 mi trovo nell'appennino pistoiese toscana e c'è un pezzo di bosco che è stato tagliato guardate la natura che spettacolo ci ha riservato mi trovo in mezzo al giardino bellissimo di questi splendidi fiori favoloso un vero spettacolo della natura che bellezza passiggiano gli insetti per le api deve essere una manna dal cielo un prato così polline a quintali non 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 Grazie. Spettacolo.